Anche il 2012 è stato un anno di crisi per il settore auto in Fulio e Venezia Giulia, triplicando il callo dell'immatricolazione dal 2011, quando fu del meno 8% rispetto al 2010, lo scorso anno infatti. La percentuale è stata di meno 26,2% in regione e meno 24% in provincia di Udine. Si contano circa 9.000 immatricolazioni venute meno sul territorio regionale ed oltre 3.700 su quello provinciale. Lo rende noto alla ConfCommercio. In dicembre a Udine si è registrato almeno 30,1%, in Italia meno 22,5% e nel Fulio e Venezia Giulia meno 31,9%. In contraccendenza con il mercato italiano, dice il cappogruppo, auto, moto e ricambi di ConfCommercio provinciale, frulana e regionale, Giorgio Sina, il mercato del Fulio e Venezia Giulia ha causato una flessione più accentuata negli ultimi mesi. Dicembre si è rivelato il mese peggiore in assoluto, con cali evidenti rispetto al 2011. Unico dato positivo, il rinnovamento del parco circolante che è stato messo in atto grazie al pressing di ConfCommercio e alle conseguenze in introduzione in regione della misura degli incentivi, come miglioramento della qualità dell'aria, riduzione dei costi di esercizio delle vetture, contenimento del tasso di mortalità per incidenti.